L'azienda Brunello Cucinelli è nata nel 1978 con l'idea di mio padre di cercare di lavorare per la dignità economica e morale dell'uomo. Grazie alla manualità e all'artigianalità, al grado di manualità e di artigianalità delle persone che lavorano con noi, riusciamo a costruire dei prodotti di maglieria che a volte possono essere quasi dei pezzi unici e questo per noi è molto importante. Il cliente quando vede un insegna a Brunello Cucinelli, quando vede l'header del nostro sito Brunello Cucinelli, si aspetta più o meno sempre lo stesso tipo di trattamento, di apertura e di disponibilità. E la nostra sfida è cercare di replicare ciò che abbiamo imparato a fare nel mondo fisico, anche online, così come permettere tramite il digitale di mantenere o di innovare i servizi speciali che abbiamo creato per il cliente nelle boutique. Ci piace pensare che quando si acquista un prodotto Brunello Cucinelli, si acquisti anche un pezzetto di quella che è la nostra storia, del nostro paese. E penso che questo sia il lusso, il poter guardare oltre il prodotto stesso, il poter decidere se qualcosa è anche più etico oppure no. Questo è un prodotto perché mi sento rappresentato da quell'azienda. Nel pensare al nostro e-commerce abbiamo cercato, tentato, di trasferire online l'esperienza di Solomeo. Solomeo. Volevamo, così sognando, permettere ai clienti di respirare i profumi della nostra terra, di sentire il tocco delle nostre mani, anche tramite un mezzo di per sé freddo che è internet. Quindi abbiamo lavorato molto su quella che è l'esperienza fisica dell'e-commerce. E tutto ciò dobbiamo farlo cercando di rendere l'esperienza del nostro cliente, in quel momento così delicato che è il pagamento, il più semplice e sicuro possibile. È importante riuscire a lavorare con le migliori tecnologie che abbiamo a disposizione e questo cerchiamo di farlo ogni giorno. Abbiamo definirci partner molto soddisfatti e felici di Adyen, non solo per l'eccellenza tecnologica e per l'innovazione costante, ma anche per le qualità umane delle persone e del team di Adyen. Qualità che troviamo molto vicine ai nostri valori. Assieme come Adyen e Brunello Cucinelli possiamo lavorare per unire le due cose. una grande innovazione tecnologica nel mondo del retail e dei pagamenti elettronici e la visione che vede l'essere umano e il cliente sempre al centro delle nostre attività.